Ed eccoci all'abbonamento EA Play su PlayStation, costa 24 euro all'anno di circa, 24,99 Oppure 3,99 euro al mese se volete giocare un mese con qualche gioco di Electronic Arts che vi piace Questo è un abbonamento a parte, non è incluso nel PlayStation Plus come invece è incluso il Ubisoft più classic Vi faccio vedere i giochi ad agosto 2022, visualizza giochi inclusi nella lista E a settembre dovrebbe essere incluso anche un gioco fichissimo che per adesso ce lo fanno solo provare Che è Grid Legend Allora vi leggo i giochi FIFA 22 per PS5 NHL 22 per PS5 Lost in Random F1 2021 Super Mega Basket It Takes Two Madden NFL 22 Mass Effect Legendary Edition UFC 4 Star Wars Jedi Fallen Order Battlefield V The Sims 4 Edition Standard Plant vs Zombie La Battaglia di Neighborville Titanfall 2 NHL 21 Star Wars Battlefront 2 A Way Out Star Wars Squadron Hunt'em Battlefield 1 Battlefield 4 Battlefield Hardline Burnout Paradise Bellissimo FIFA 19 FE UFC 2 Dirt Rally 2.0 Dragon Age Inquisition Bellissimo Grid Quello normale Dirt 5 DS5 PS4 Madden NFL 19 Mirror Age Catalyst NBA Live 18 NFS Need for Speed Hit Need for Speed Rivals Need for Speed Hot Pursuit NBA Live 19 Need for Speed Payback Peggle 2 Plant vs Zombie Garden Warfare E' il primo Plant vs Zombie Garden Warfare 2 Project Cars Unravel Unravel UFC 3 Battlefront Star Wars Sea of Solitude Rocket Arena Unravel 2 Questo è il mega catalogozzo di EA Play su Playstation Che si paga con un abbonamento a parte Di 25 euro l'anno Oppure un mese 3 euro 99 Quindi quando ci saranno aggiornamenti sul catalogo delle EA Play su Playstation Vi farò un altro video Per adesso è tutto Dall'Electronic Arts Play su Playstation 5 In questo caso ma anche su Playstation 4 Ci vediamo al prossimo video Mi raccomando di iscrivervi al mio canale YouTube Qui dove state vedendo questo video Mettete mi piace Commentate Mi raccomando E portate gente sul canale Che più si ama o meglio è Se possiamo fare anche cose più fiche Mi raccomando iscrivervi anche al canale Twitch Che lascio tutti i link in descrizione sotto al video E mi raccomando di iscrivervi anche a Facebook, Instagram, TikTok, Twitch Che lascio il link Linktree Potete cliccarlo e iscrivervi ai social singolarmente Di Marco Drums Games Quindi grazie mille a tutti i ragazzi per il vostro supporto E spero che vi piacciono i miei video su queste cose qui Dei vari prodotti che offrono le varie case Electronic Arts, Ubisoft Classic Più che è incluso nel Playstation Plus E Playstation Plus Essential Extra e Premium Ma questo video è dedicato a Electronic Arts Ciao ragazzi alla prossima Mitici Ciao ragazzi alla prossima